A me viene una riflessione, è inutile che continuiamo a dire che anche per ragioni di tutela dell'ambiente dobbiamo lasciare a casa l'auto e cominciare a usare di più i mezzi pubblici. Poi succede, come vediamo anche sul gazzettino di Belluno di oggi e poi sul Corriere delle Alpi, vi mostro subito, succede questo, leggiamo il titolone a tutta pagina, bus senza autisti impiegati al volante. L'inizio della scuola manda in crisi la Dolomiti Bus per il solito problema della mancanza di personale. Vengono coinvolti anche i meccanici a guidare gli autobus, ovviamente perché hanno la patente giusta, e il sindacato dei lavoratori lancia un appello al prefetto. Lunedì l'incontro, tutta colpa di paghe basse e orari lunghi. Eccolo qui il problema. Se paghiamo servizi, le persone che svolgono servizi essenziali, li paghiamo troppo poco, è logico che la gente vada a fare altri lavori. Vedremo dopo che il problema si presenta per altre categorie. Abbiamo disperato bisogno di una serie di figure e non riusciamo a trovare persone che svolgano questi compiti, non solo Dolomiti Bus, vedremo, perché la gente, perché non vengono pagati abbastanza. Bisogna assolutamente rivedere il discorso degli stipendi. Il Corriere delle Alpi titola in prima pagina meno navette scolastiche e oggi saltano altri 39 bus. Malumori per le corse sacrificate. Attesa vana in strada abbiamo perso la giornata di lavoro. Arco di impegno di 12-15 ore e paghe basse. Fare l'autista non conviene. Questa è la realtà. Dobbiamo guardarla in faccia e capire che se si vuole l'autobus, se si vuole che la gente cominci a disporsi a usare il mezzo pubblico, il mezzo pubblico deve esserci, deve essere bello, deve essere sicuro e deve essere garantito. E anche non troppo affollato. La scuola è ripartita ieri, dice il gazzettino, torno sul gazzettino, articoli qui firmati da Priors, Carton e Santin, ben tre pagine su questo argomento. La scuola è ripartita ieri con l'affanno della Dolomiti Bus, che a corto di autisti ne mancano 60 su 180. Dolomiti Bus è stata costretta a mobilitare il personale amministrativo e di officina per garantire tutte le corse agli studenti, pensiamo un po'. Salari troppo bassi, orari troppo lunghi, denunciano i sindacati. Questi fatti hanno portato ad una situazione drammatica, tanto da aver chiesto un incontro al prefetto per evitare un collasso del sistema trasporti. Si chiama tavolo di raffreddamento, spiega la segreteria Filt CGL, al quale abbiamo chiesto che siedano anche provincia e comune di Belluno. Vi faccio vedere velocemente i titoli di approfondimento all'interno. Ecco qua, pochi autisti, pagina 5, impiegati al volante e poi si approfondisce anche nelle altre pagine perché come vi dicevo l'articolo poi è alle pagine 2, 3 e 4, dice il lancio. Allora sul Corriere delle Alpi invece, tornando a prima, all'altro titolo che vi avevo mostrato, l'approfondimento è a pagina 15, vediamo anche qui come viene gestito dal giornale, trasporti scolastici, il piano è azzoppato, navette saltate e lavoratori lasciati a terra, cancellato il collegamento di mezzogiorno tra il Polo, Calvi, Renier e la stazione. Si vive alla giornata, niente avvisi alle fermate. Dite se non siamo in una situazione assurda. Con tutti gli sforzi che sono stati fatti, tra l'altro, per trovare le risorse in modo da garantire agli studenti, l'unico studenti, cioè l'abbonamento che costa uguale su qualsiasi tratta si debba percorrere. Quindi da un lato si fanno sforzi assolutamente meritevoli, dall'altro si trova in una situazione, si trova troppo in ritardo a cercare di tappare il buco di una situazione che si sa, si sa da un sacco di tempo, che è pesante quella di non riuscire ad avere autisti. Tornando sul gazzettino, volevo farvi vedere la prima pagina del nazionale, perché qui c'è un'altra questione che riguarda alla fine sempre il solito discorso, paghe troppo basse, mancato rispetto proprio delle qualifiche anche professionali. Prima pagina, infermieri, la grande fuga, crollo degli iscritti ai corsi universitari. Il calo nazionale è del 10%, ma a nord si tocca il 14% di crollo. Eppure ci dicono gli analisti che mancano in Italia 70.000 infermieri e in questa situazione non ce n'è abbastanza che va a fare l'università. E anche qui, perché? Perché le prospettive di carriera sono basse, gli stipendi sono bassi e gli impegni sono enormi, perché se un infermiere sbaglia può essere che ne vada della vita di altre persone e a fronte di questo non hanno neanche i soldi per pagarsi un'assicurazione e non c'è personale sufficiente per pensare di svolgere questo lavoro con la sufficiente serenità e lucidità. Anche qui è un altro caso, come dicevamo prima, non si può andare avanti così. Calano le domande di accesso ai corsi di laurea di scienze infermieristiche, leggo questa cosa anche perché in provincia di Belluno una delle poche cose universitarie che abbiamo è proprio il corso di scienze infermieristiche che c'è a Feltre ed è gestito dall'Università di Padova. In alcuni atenei, dice il gazzettino, non raggiungono le iscrizioni nemmeno il numero dei posti a bando, cioè tipo ci sono 100 posti e non è che ci sono 200 che cercano di entrare, sono 90. La riduzione media è del 10% rispetto allo scorso anno accademico, meno 14% al nord, meno 14,4% al centro e meno 5,4% al sud. A lanciare l'allarme è l'ordine degli infermieri, proprio mentre la Corte dei Conti, gli organi dello Stato non sono stime così a naso, la Corte dei Conti ha calcolato che ne mancano in Italia 70.000 e i 10.000 pensionamenti annui raddoppieranno dal 2029, inoltre quasi 30.000 laureati infermieri in Italia sono andati all'estero. Capite che in questa situazione si fa veramente fatica a pensare di coprire i fabbisogni e in più queste persone li si paga pure poco e quindi capite bene che è logico che la gente sceglia di andare a fare altro. Il titolo all'interno di pagina 10 del Gazzettino Nazionale è questo, Infermieri, la grande fuga, corsi di laurea deserti, le domande per le professioni sanitarie sono diminuite in un anno del 10%, il buco da coprire è già di 65.000 posti e con le case di comunità salirà ancora. Si analizza un po' la questione, poi c'è un'intervista, l'intervista Barbara Mangiacavalli, che dice questo, i giovani vogliono fare carriera e qui non hanno prospettive, contratti da cambiare subito. È la Presidente della Federazione degli Ordini di Professioni Infermieristiche e lo ribadisce, la nostra è una professione appetibile, purtroppo non sono appetibili le condizioni organizzative, giuridiche ed economiche e così i giovani infermieri cosa fanno? Vanno all'estero. Il calo degli iscritti certifica un quadro preoccupante, ma non è una novità, lo abbiamo detto in tutti i modi in questi ultimi anni, questo calo ce lo aspettavamo per diversi motivi, dal numero minore dei nostri maturandi al fatto che la professione viene scelta dai giovani, solo che poi le prospettive lavorative allontanano gli studenti. Non dimentichiamo che si tratta di una professione che non ha sviluppo di carriera e che non sono riconosciute le competenze e le specializzazioni che si acquisiscono con la formazione e questo perché negli ultimi anni non sono cambiati i modelli organizzativi. È cambiata l'università, è cambiato ciò che si chiede agli infermieri, è cambiata l'ottica di visione sulla loro professione, ma non c'è stato un conseguente adeguamento dei modelli. dei modelli, i modelli organizzativi, mentre è profondamente mutato il bisogno di cura. I giovani, è la domanda, preferiscono lavori più redditizi? La risposta è questa, i numeri delle domande sono significativi, il problema si pone quando capiscono i giovani cosa significa esercitare l'attività infermieristica. Prima di decidere, i ragazzi si chiedono se i prossimi 40 anni li vogliono passare a far sempre le stesse cose o se possono crescere, ma si fa carriera, è la domanda. Dal punto di vista della formazione stiamo lavorando perché le lauree magistrali vengono orientate verso l'indirizzo clinico specialistico, poi parallelamente deve seguire una modalità diversa di reclutamento nel Servizio Sanitario Nazionale e di inquadramento contrattuale. Le chiedono anche stipendi più alti? Occorre fare una riflessione importante anche sulle prospettive lavorative, non beneficiando di un sistema di incarichi professionali, lo stipendio resta sempre una modalità fissa e gli scatti sono quelli di anzianità soltanto. Per il Servizio Sanitario quali sono i rischi? È l'ultima domanda. Questa non è solo una questione di numeri, ma un problema sistemico del Paese e riguarda il modello di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale decide di dare agli anziani, ai fragili e ai disabili, che sono sempre di più, visto che siamo il secondo Paese più anziano al mondo. Intanto i nostri giovani vengono cercati all'estero e ricevono offerte di stipendi settimanali. In sostanza abbiamo speso un miliardo per formare infermieri italiani che poi lavorano all'estero e rincorriamo personale straniero per averlo qui a lavorare in Italia. Capite che insomma ci sono un po' di cose da mettere a posto se le cose stanno così. Ieri era arrivato il comunicato della Federazione degli Infermieri che annunciava queste cifre poi confermate appunto dalla Corte dei Conti sulla carenza di personale. Andiamo avanti con i titoli in prima pagina. A proposito di disagi, prima abbiamo parlato degli autobus, riguarda tutti, ma riguarda forse primo luogo in questo momento gli studenti. Gli studenti stanno anche facendo i conti con le mega ristrutturazioni della scuola, delle scuole in provincia di Belluno, Belluno, città, grazie ai fondi del PNRR. Benissimo, tra un po' avremo scuole più sicure e migliorate. Speriamo che da voi siano stati progettati bene nonostante la fretta, cioè in modo funzionale, non dico sicuro. Però in questo momento è disagio. Belluno, quando le lezioni si organizzano in luoghi alternativi e le fotografie centrali sul gazzettino di Belluno riguardano proprio dei ragazzi che entrano in alcuni container utilizzati come aule scolastiche. A lezione nei container, speravamo fosse finita. Rientro in classe senza la sperata normalità. Dopo lockdown e didattica a distanza, gli studenti si ritrovano a fare i conti con diversi istituti chiusi per lavori e con traslochi forzati in altre sedie e container. Speravamo nella normalità, dice una giovane, invece è ancora caos. Abbiamo situazioni, purtroppo, che si trascinano da un bel po' in questo senso, a Belluno, no? E altre se ne generano. Da quest'anno, da quest'anno, sono quanti si leggeva? Centinaia i ragazzi costretti a soluzioni alternative non proprio comode. Vabbè, tutti si è disposti a far sacrificio verso un miglioramento. Anche qui, come prima, si rincorrono i problemi quando ormai si sono manifestati in modo grave. Adesso ci si accorge che le scuole avevano bisogno di una grandissima lavoro di manutenzione, meno male che ci sono i fondi del PNRR, però il disagio recato a chi nella scuola ci lavora e a chi ne deve fruire, cioè tantissimi studenti, è un disagio grosso. È stato seguendo la rassegna stampa di Radio Piave in blu, come sapete, condotto dai giornalisti dell'Amico del Popolo e vi sto presentando i giornali di Luigi Guglielmo. Allora, altri titoli su questa prima, il progetto Club di Serie A coalizzati per i bimbi delle primarie. Tre società impegnate in campionati di Serie A, e cioè Canottieri Belluno, Pallamano Belluno, Belluno Volley, si sono coalizzate per invogliare i giovani a fare sport attraverso il gioco e il divertimento. Il progetto viene sostenuto dalla società polisportiva Mondo Sport, oltre ad entrare nelle scuole per convincere i bambini a fare attività motoria, è stato attivato anche un corso pomeridiano. D'altra parte, queste realtà importanti dello sport bellunese hanno anche bisogno di vivaio e il vivaio lo costruisci già la scuola. Feltre, energie alternative, un'idea che piace, imprenditori, enti locali, cooperative, associazioni di categoria di terzo settore, sono queste le realtà che hanno risposto presente alla proposta avanzata dal comune di Feltre di attivare nel territorio comunale una comunità energetica, un ottimo punto di partenza per questa progettualità che ora si amplierà con l'apertura anche ai privati cittadini. Crescono i casi, ma il Covid non fa più paura. L'azienda ospedaliera Lus1 Donomiti ha reso noti i dati senza temere nuove ondate di ricoveri. Cresce l'incidenza di Covid positivi, ma resta comunque bassa rispetto ai tempi in cui il virus faceva veramente paura. Più che altro, dovrebbe da dire, non è questo il problema, il problema è che tra vaccini e immunizzazione naturale, avendo già fatto il Covid, le manifestazioni di questa malattia, per ora le manifestazioni gravi sono veramente rare, quindi probabilmente essendoci passati ci siamo abbastanza attrezzati, i nostri corpi sono abbastanza pronti ad affrontare un'eventuale malattia che però impone comunque la cautela e l'impegno a non diffondere il contagio. I dati dell'azienda Ulsono Dolomiti parlano di 50 casi su 100.000 abitanti a settimana, ma la cosa più importante è che non c'è pressione sulle strutture ospedaliere. Attualmente sono 12 le persone ricoverate Covid positive, ma la maggior parte sono entrate nelle strutture per altre motivazioni. La situazione quindi non preoccupa l'azienda ospedaliera. Dobbiamo però ricordarci che con i tamponi fai da te sempre più affidabili, tantissima gente si autodiagnostica il Covid e poi se lo gestisce a casa per conto proprio, quindi l'Ulss nemmeno sa quanti sono i numeri reali, Le indicazioni, unico consiglio da parte dell'Ulss, attenzione alle persone fragili, si invoca il buonsenso senza voler suscitare preoccupazione questi consigli, ma attenzione alle persone fragili sul fronte del ritorno del Covid. Teatro comunale, utilizzo del teatro comunale, le polemiche continuano, la gestione nuova con Massimo Ferriutti alla presidenza della Fondazione Teatri dello Dolomiti lascia perplessità, le ha espresse anche l'altro giorno presentando la stagione del Circolo Cultura e Stampa Luigino Boito e a seguire, insomma, ci sono tutte le altre realtà che si occupano di teatro che si lamentano. Il titolo sul gazzettino è dedicato al sindaco del Pellegrin che dice questo Boito noi puntiamo a un cambio di rotta quindi se la mettano via gli operatori del teatro perché si cambia rispetto a quanto è stato fatto finora. Una battuta di qua dice l'articolo di Daniela De Donà ciao Daniela una battuta di qua una di là come un'onda che diventa maremoto tra ieri pomeriggio e stamattina. Massimo Ferriutti presidente della Fondazione Teatri Dolomiti è in odore di dimissioni o si è addirittura già dimesso niente di che invece nessuna maretta è calma piatta con l'amministrazione comunale lo stesso interessato se ne fa una risata smentisco queste voci di corridoio non mi sono dimesso e il sindaco Oscar De Pellegrin rincara lo stupore senza nascondere un velo di stizza ci siamo incontrati martedì com'è settimanale consuetudine le critiche di Boito noi puntiamo a un cambio di rotta Cortina non solo Bob stavolta l'opposizione mette nel mirino i ritardi per il curling i progetti e i lavori negli impianti sportivi di Cortina continuano a suscitare contrasti il gruppo sistema Cortina parliamo del consiglio comunale in minoranza ha depositato un'interrogazione sul nuovo centro federale del curling previsto nell'interrato dello stadio olimpico del ghiaccio questo impianto non sarà utilizzato per i giochi invernali del 2026 e questo diciamoci la verità è un po' il colmo avendo l'Italia conquistato grazie proprio a un'ampezzana la vediamo qui anche inquadrata in una fotografia a Stefania Costantini avendo conquistato la medaglia d'oro in questa disciplina quindi insomma è una cosa un po' un po' così che lascia un po' di perplessità va beh sfogliando il gazzettino paginona pagina pagina tre in classe con un altro anno un altro anno di caos dopo lockdown e didattica a distanza gli studenti si ritrovano a fare i conti con traslochi e divisioni dovuti ai lavori sugli edifici speravamo di essere tornati alla normalità invece eccoci ancora divisi impossibilitati a socializzare con le altre classi va così va così lavori a Tiziano e al Segato classi smistate in più sedi e in container l'abbiamo detto è difficile però è anche vero che si va verso una situazione di miglioramento in generale dobbiamo cercare di guardare positivo palestra a zero consumi per gli studenti di Agraria una bellissima realizzazione ieri ritorno a scuola speciale al della Lucia di Feltre che conta 549 iscritti geotermia e fotovoltaico garantiscono una piena autonomia energetica belle cose sono queste qua molto bene allora lasciamo stare il gazzettino andiamo a vedere meglio che cosa c'è sulla prima del Corriere delle Alpi vi dicevo titolo di apertura me non avete scolastiche e oggi saltano i bus la foto centrale è dedicata anche qui al curling i lavori per il curling center restano una chimera Ghedina rischio in topo con i cantieri olimpici il curling center che dovrebbe essere costruito dal comune per le squadre ampezzane potrebbe slittare ancora probabilmente a dopo i giochi del 2026 come dice anche il gazzettino è quanto tema il consigliere di sistema cortina ed ex sindaco Gianpietro Ghedina ieri ha protocollato un'interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto del curling center nei pressi dello stadio del ghiaccio il timore è quello di una sovrapposizione con i cantieri previsti sulla stessa area per le olimpiadi Feltre pannelli solari geotermia Avellai palestra basso impatto è quella dell'agrario di cui abbiamo detto sanità covid 100 casi a settimana da ottobre i nuovi vaccini sempre sul corriere ma prima abbiamo letto sugli azzettino Belluno impiccati o prostituisciti genitori a processo i due sono accusati di 8 anni di maltrattamenti ora un programma con gli psicologi il sosso che ne riferisce il dramma vaiont visto con gli occhi di un saldatore è il romanzo il nuovo romanzo di Antonio Bortoluzzi la diga del vaiont Antonio Bortoluzzi la vede ogni giorno andando in fabbrica a Longarone eppure a lungo è stata una presenza assenza un ricordo tenuto a distanza poi all'improvviso quella diga è diventata una presenza ineludibile così è nato il saldatore del vaiont ma su questo io volevo mostrarvi che sul gazzettino nazionale eccolo qui adesso ve lo faccio vedere sul gazzettino nazionale aspetta un attimo la pagina macro della parte nazionale dedicata alla cultura che viene curata tra l'altro dall'amico Paolo Navarrodina giornalista del gazzettino già per molti anni qui a Belluno ciao Paolo la pagina macro è dedicata proprio a questo 9 ottobre 63 il vaiont riletto dal saldatore quindi se siete appassionati dei lavori di questo scrittore bellunese che è Antonio Bortoluzzi insomma potete trovare questo vasto approfondimento a firma di Marco Dinca sulla prima della cultura del gazzettino mi fermo qui vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a seguire www.amicodelpopolo.it oltre a Radio Piave durante tutto il giorno vi formiamo continue notizie quindi insomma state con noi vi auguro una buona giornata ciao a tutti da Luigi Guglielmo grazie a tutti